Non ci ferma nessuno, non ci ferma nessuno, il podcast, il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Beta, puntata numero 81 Ebbene sì ragazzi, ci siamo quasi, quella di oggi sarà l'ultima tappa del tour 2021, ma non disperate, non è ancora tempi di saluti, e sì perché abbiamo ancora un bel po' di podcast per voi Oggi voglio ripescare uno dei momenti più apprezzati del talk di Napoli, la nostra è una campagna sociale basata sull'ascolto reciproco, noi ascoltiamo gli studenti e loro ascoltano quello che noi abbiamo pensato di comunicargli Tony è un giovane laureato in scienze aeronautiche e ha dato dimostrazione di grande sensibilità, forte determinazione e con parole sincere ha parlato di crescita, sorrisi e esempi da seguire Io credo che non ci ferma nessuno perché sto cercando lavoro da un po', non lo trovo, ma continuo a cercarlo Non ci ferma nessuno perché da quando mi sono iscritto all'università ho intrapreso la carriera da rappresentante, se si può dire, rappresentante degli studenti ovviamente E questa esperienza mi ha permesso di crescere moltissimo, ho conosciuto tantissimi studenti che hanno avuto problemi di bullismo, di autostima, di salute e ho sempre cercato di aiutarli per quanto potesse essere possibile Ci sono ancora tanti studenti che tuttora mi telefonano perché si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia E volevo dire che non ci ferma nessuno perché in particolare mi rivolgo ad uno studente che ormai è un mio amico molto stretto Durante quella parte della sua vita abbiamo intrapreso un mantra, lo ripetevamo sempre praticamente E ripetevamo sempre in queste cose o fai la vittima o fai l'esempio E grazie a questo mantra, grazie a questo percorso che abbiamo intrapreso insieme, lui è riuscito a ritrovare il sorriso Non ci ferma nessuno perché Luca, mi rivolgo specialmente a te, avere voglia di propagare coraggio è un atto di estremo coraggio Ed è proprio così, anche Tony ci ha regalato un sorriso e lo ha donato di certo a tanti ragazzi all'ascolto durante la nona tappa del tour E siamo certi, contagierà di coraggio anche voi che ci state sentendo Ora ve lo vado, domani vi racconterò della tappa con gli studenti dell'Università Sapienza di Roma Ciao!